Buon pomeriggio a tutti. Oggi parliamo di un momento importante, soprattutto anche la luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali e andiamo a affrontare il problema dei centri di prima accoglienza fra legittimità e merito. Io sostituisco la collega Grazia Maria Gentile, il Presidente Nesta che porto i vostri saluti. Oggi purtroppo non possono partecipare all'evento per motivi familiari. La consigliere Grazia Maria si scusa da questo punto di vista e vi auguro buon lavoro a tutti quanti i relatori. Iniziamo secondo la scaretta con l'Avvocato Maddalena Claudio del Re, componente della Commissione dei Ditti Umani che ci parlerà della gestione amministrativa dei centri permanenza rimpatri. Prego, otto la parola collega. La parola collega, l'altro, è un po' meno più vicino. Benissimo, così si sente? Allora, grazie Professoria Frate. Questo convegno, tra l'altro, voglio ricordarlo, segue un convegno che si è tenuto sempre promosso dalla Commissione dei Diritti Umani il 10 ottobre, dove già era stato affrontato in parte il tema del decreto cutro, chiamiamolo così, come anche il nostro Vice Presidente, l'Avvocato Roberto Maria Meola, aveva continuato a chiamarlo in questo modo per la vulgata che si è andata consolidando nel linguaggio comune. per cui vi erano stati degli interventi molto interessanti, anche lo stesso tuo, caro Professoria Frate, moderatore, in cui avevi parlato di minori non accompagnati. Noi continuiamo, posso dire, forse questo percorso di approfondimento. Come aveva detto il nostro Vice Presidente, l'Avvocato Meola, il lavoro è difficile, soprattutto al punto di vista del reperimento delle fonti su cui lavorare e della successione delle leggi nel tempo, nel senso che la legislazione inerente la materia del diritto all'immigrazione è costantemente in cambiamento, in mutazione, in evoluzione o regressione, come vedremo in alcune situazioni, e quindi per riuscire a districarsi, ad avere un'oggettiva visione dell'esistente, di ciò che è stato e di ciò che è attualmente in vigore, bisogna sempre appunto porre molta attenzione a questi coordinamenti di norme. Io mi occuperò dei centri di permanenza per il rimpatrio sotto un profilo che è a mio avviso estremamente rilevante, alle volte trascurato dai mass media, dalla discussione politica e anche dalla discussione giuridica, cioè quello della gestione amministrativa, tra trattenimento e detenzione. Approfondire questo tipo di aspetti vuol dire anche scendere, a mio avviso, sempre secondo per quello che ho potuto approfondire, scendere nella tutela concreta del diritto della persona e dei diritti e delle eventuali violazioni, vedremo se ve ne sono, dei diritti. Le fonti a cui mi sono riferita sono ovviamente le fonti normative e le fonti del Ministero degli Interni, vi sono degli studi delle Camere, proprio di Senato e Camera congiunti, molto interessanti, ci sono dei report della Corte dei Conti, oltre all'importante relazione annuale del garante per i detenuti e delle persone private della libertà personale. Non va dimenticata neanche questa ultima dizione, perché qui stiamo parlando di trattenuti dal punto di vista tecnico e non di detenuti nel senso vero e proprio del termine, vedremo come. Inoltre vi è una molteplicità di associazioni non governative che hanno egregiamente, bisogna dire, svolto degli approfondimenti, ci riferiamo per esempio a Melting Pot, all'Associazione degli Studi Giuridici sull'immigrazione e da ultimo anche l'Associazione Action Aid che ha approfondito e analizzato proprio con un report uscito qualche settimana fa, non ricordo esattamente la data, comunque mi sembra in ottobre, tutti questi aspetti della gestione amministrativa. Prima di passare proprio a parlare dei CPR, forse sarà il caso brevemente di ricordare che il sistema di accoglienza, cioè quindi ove le persone migranti che giungono in Italia sono accolte, è estremamente variegato, perché noi abbiamo in primo luogo quelli che vengono chiamati sui giornali e anche in alcune fonti legislative, gli hotspot, che sono sostanzialmente quattro che si trovano a Lampedusa, Pozzallo, Taranto e vi dico anche l'altro e sono ovviamente il primo momento, il primo rapporto che il migrante che arriva in Italia, sbarcato ad esempio sulle nostre coste dell'isola di Lampedusa, trova quale contatto con l'Europa. In questi luoghi si svolgono le operazioni di soccorso, di prima assistenza sanitaria, di pre-identificazione, delle foto segnalamento e le informazioni sulle procedure dell'asilo. Poi anche questi hotspot servono per differenziare, distinguere, iniziare a selezionare le tipologie dei migranti, ad esempio la categoria di selezione più importante e rilevante è quella tra i richiedenti di asilo e coloro che invece sono solamente migranti di tipo economico. Poi abbiamo successivamente superata questa fase, chiamiamola così, qui bisogna veramente, si può usare credo il termine emergenza, a differenza che forse per il frussi migratori in generale che abbiamo visto molti studiosi ritengono strutturale come fenomeno e non un fenomeno emergenziale, ma a parte questo, chiusa parentesi, quindi superato questa fase di emergenza negli hotspot, si passa ai centri governativi di prima accoglienza che sono i CARA, i CDA e i CPSA. Questi sono centri che sono sostanzialmente dove vengono inviati i migranti dal prefetto e sono appunto gestiti esclusivamente dal governo. Dopodiché si passa a una ulteriore divisione, come abbiamo visto prima, tra i richiedenti asilo e i rifugiati in una seconda accoglienza, per cui vengono inviati in determinati centri per concludere le pratiche riguardanti la richiesta di asilo e in questo caso in molte strutture non sono più gestite dal governo, ma sono strutture di tipo privato, i famosi CAS che in Italia ammontano a circa, a oltre 5.000, 5.800 qualcosa. Tutto ciò è molto importante per capire quindi come è variegata la struttura. In questi CAS tra l'altro, ove necessario, vengono inviati anche i soggetti cosiddetti vulnerabili, quindi oltre alle donne in gravidanza, oltre ai minori, che è una cosa facilmente comprensibile, anche le vittime di tratta umana, anche ad esempio cosa rilevante, chi ha dei problemi psicologici, cosa che può essere conseguenza ad esempio anche di terribili incidenti e vessazioni, torture avvenute magari in paesi dove hanno dovuto fermarsi prima di arrivare in Italia i migranti, mi riferisco ad esempio alla Libia dove arrivano appunto, come abbiamo letto tante volte, i racconti, questi soggetti veramente prostrati psicologicamente per ciò che hanno subito. Ciò detto, passiamo, si potrebbe approfondire ancora, però vediamo già come le strutture per esempio siano anche nel caso di prima accoglienza, anche nel caso in cui non si parla di detenzione, molto relegate e delegate alla gestione di tipo privatistico, normalmente sono associazioni cooperative dove però gravi scandali sono avvenuti e la gestione non è sempre trasparente al 100%. Ciò detto, passiamo, se no anche io prendo veramente troppo tempo e ancora non abbiamo iniziato a parlare della questione più rilevante, dei centri di permanenza per i rimpatri. Come sappiamo sono stati istituiti nel 1998 come centri di identificazione ed espulsione, poi successivamente modificati in centri di permanenza e rimpatri nel 2017 con la legge Minniti Orlando. Sono delle vere e proprie strutture di tipo detentivo come vengono strutturate. Hanno cambiato anche in questo caso più volte i contenuti della gestione interna. Vediamo a questo punto, ad esempio, molto interessante capire qual è però il fondamento. Il professore Adelmo Manna che seguirà il mio intervento con la sua esposizione si occuperà più squisitamente, come abbiamo organizzato questo convegno, dei profili costituzionali e penalistici. perché appunto però mi serve quale introduzione il fatto che questi centri di detenzione sono centri quindi di diciamo di privazione, forse è più corretto dire di privazione della libertà personale in cui vengono tenute delle persone dentro un edificio e non possono uscire da questo edificio con tutto ciò che le consegue per un determinato periodo di tempo. È importante perché molto spesso si è, come approfondirà appunto il professor Manna, messa in discussione la costituzionalità di questo tipo di privazione della libertà perché in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione non avendo questi soggetti, e qui è il punto fondamentale, non avendo questi soggetti commesso alcun reato o quantomeno avendo scontato il reato precedentemente in carcere. Quindi quali sono le fonti normative? È legittimo intanto, in qualche modo al di là del problema costituzionale, dei contrasti che approfondirà il professor Manna, è legittimo trattenere queste persone. Le fonti normative sono europee, noi abbiamo la prima fonte normativa è quella proprio della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo del 1950, che è convenzione che ha istituito anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo, che è fondamentale per tutti noi e con tutte le modifiche che ci sono state. All'articolo 5, espressamente ovviamente al comma 1 ribadisce il principio fondamentale per cui ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza, nessuno può essere privato della libertà se non nei casi seguenti e seguono le eccezioni, tra cui alla lettera F, se si tratta, quindi può essere privato della libertà personale, se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedire di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione. Successivamente la direttiva cosiddetta rimpatri del 2008, sempre dell'Unione Europea, all'articolo 15 ci dice che il trattenimento è legittimo, è possibile, lo Stato ha il potere di porlo in essere, salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitivi, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e o effettuare l'allontanamento, il trattenimento è durato quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Non vi tedio troppo, tali principi sono anche ripetuti all'articolo 8 della direttiva accoglienza del 2013 e quindi il fondamento giuridico esussiste, esiste ed è possibile. È possibile però, attenzione, in quale misura? Qui c'è spesso stata, lo dico senza remore, in qualità di avvocato e di giurista, non alzando polemica politica ma d'altra parte è un'ambiguità che si è perpetrata in tutti i governi che si sono succeduti dal 2017 ad oggi, la funzione non è punitiva, è sempre e soltanto finalizzata al respingimento e all'espulsione, all'espletamento delle pratiche per l'espulsione. Quindi vi è una legittimità molto condizionata proprio per i problemi che affronterà il professor Mann. Ciò detto, voglio anche sottolineare che giurisprudenza della Corte della CEDU, come affronterà poi l'avvocato Chilelli, parte della giurisprudenza, non so se tu affronterai anche questi aspetti. E tre sentenze della Corte Costituzionale del 2001, del 2004, del 2017, se volete l'elenco che sono la 105 del 2001, la 222 del 2004 e la 275 del 2017 che non è esattamente su questo punto ma anche, comunque ben tre sentenze della Corte Costituzionale ribadiscono questo principio. Questo è fondamentale perché la condizione per cui è possibile trattenere delle persone che non hanno commesso reato o che già hanno scontato la pena per il reato e devono essere espulse, sono condizionate estremamente a questo aspetto. I CPR attualmente sono sette e sono a Bari, a Brindisi, a Caltanisetta, a Gradisca di Sonso, a Macomer, a Palazzo San Gervasio, a Roma, a Torino e a Trapani. Perché dico questo? Perché è molto importante anche comprendere che ci sono dei luoghi fisici che vogliono essere anche ulteriormente incrementati da questo governo dove tutto quanto abbiamo detto e si sviluppa concretamente. Non stiamo parlando di questioni astratte ma di luoghi fisici dove vengono proprio tenuti i detenuti. Quali sono questi detenuti? Il tipo di detenuto quindi di privato della libertà personale. Intanto sono tutti quelli che sono stati gli stranieri o accolti negli hotspot o rintracciati in condizioni di irregolarità sul territorio italiano o respinti alla frontiera subito dopo l'ingresso nell'hotspot. E questa è quella che si chiama l'utenza tradizionale dei centri dei CPR. Nel senso che nascono nel 1998 proprio avendo riguardo a questi soggetti. Altri stranieri che sono ospiti dei CPR sono coloro in uscita dal carcere dopo aver scontato una pena. Anche su questo ci sono dei profili interessanti sulla legittimità di questa pratica molto diffusa. Poiché in primo luogo si dice se questi soggetti che ad esempio hanno commesso un reato e hanno scontato la pena a Re Bibbia piuttosto che a San Vittore sono stati appunto svariati mesi se non anni nelle carceri italiane. Perché dare un ulteriore prolungamento della privazione della libertà personale e non viceversa iniziare ad espletare e terminare di espletare le pratiche di espulsione e respingimento nel periodo della detenzione per un reato e quindi nelle carceri con tutte le tutele giurisdizionali del caso. Voi pensate che dal 2014 al 2021 circa 4.500 persone hanno fatto ingresso in un centro di detenzione per stranieri proveniendo direttamente dal carcere. Quindi non stiamo parlando di il caso da giornale l'eccezione che fa scalpore. Qui stiamo parlando di una pratica che lo Stato italiano pone in essere di prolungamento della privazione della libertà personale, forse inutile, anzi io direi a mio avviso scusate sarò smentita da qualcun altro, sicuramente inutile. Quindi tra l'altro possiamo vedere che tra il 2018 e il 2021 quindi anche secondo determinate politiche di immigrazione che hanno visto governi di differenti colore ma hanno avuto lo stesso tipo di impostazione, l'incidenza degli stranieri provenienti dalle carcere ha aumentato, cresce notevolmente. La terza categoria di privati della libertà nel CPR sono i richiedenti asilo. Questi richiedenti asilo originariamente come abbiamo visto non potevano ditemi quanto tempo ancora, i richiedenti asilo originariamente con la legge turco del 98 non erano previsti poiché abbiamo visto che normalmente i richiedenti asilo addirittura hanno dei progetti oltre all'espletamento delle pratiche vengono anche sistemati nelle CAS che sono queste strutture gestite anche dalle cooperative, hanno anche dei progetti interessantissimi, alle volte veramente molto fatti bene seguiti molto bene di integrazione con la lingua eccetera. Ebbene adesso questi richiedenti asilo dove non sia possibile, ci sia possibilità anche di fuga e di dispersione vengono inseriti nei CPR con tutto ciò che segue. Cosa segue? Vi è anche una gestione dei CPR che lascia diciamo così perplessi i nostri noi giuristi. Noi sappiamo che appunto abbiamo nominato prima le Bibbia o San Vittore insomma carceri hanno una gestione suiper controllata, possono accedervi i parlamentari, vi accedono i parlamentari c'è un controllo, ci sono le visite, c'è tutta una tutela dei diritti del detenuto che non sto qui ad elencare che invece vengono purtroppo a mancare dentro i CPR perché appunto si sono sempre questo luoghi fisici delle vere prove assimilabili dal punto di vista architettonico alle prigioni ma senza avere le garanzie giurisdizionali delle prigioni. Allora, ad esempio, non tutti forse sono a conoscenza che le ICPR sono gestiti non direttamente dallo Stato ma attraverso degli appalti, delle bande di gara e degli appalti sono gestite da enti privati ed azioni e centri e società private. Noi abbiamo sostanzialmente una cinque grandi società for profit, for profit, no profit, cioè quindi non come il sistema di accoglienza secondaria, cooperative eccetera, ma delle società che proprio gestiscono per fare i soldi questi centri di accoglienza che spesso sono anche internazionali. e poi abbiamo altre due, cinque aziende gestiscono da sole, scusate devo riguardare i dati perché ci sono dei numeri che voglio non perdere, cinque aziende gestiscono da sole in associazione temporanea di impresa con cooperative sociali, ben sei dei dieci CPR attualmente attivi sul territorio. Si tratta di strutture quindi amministrate da aziende for profit che tra il 2014 e il 2021 hanno gestito quasi 25.000 ingressi, ovvero oltre il 65 del totale degli ingressi nei CPR. Le rimanenti strutture sono gestite da imprese sociali, ma comunque sempre con bando di gara e appalto. Oggi, era di oggi la notizia, anzi di ieri è riportata oggi sui giornali che il governo Meloni ha stipulato un accordo addirittura non con una società, azienda non profit, ma addirittura con uno Stato estero, per cui si portano cittadini stranieri sbarcati sul territorio italiano in edifici equivalenti a delle prigioni, scusate se io ripeto sempre questa cosa, però dobbiamo anche immaginarci la vita delle persone che stanno nei CPR, in edifici che saranno, non so se costruiti ad hoc con spese dell'Italia o meno, non si è ancora capito nulla, per cui non entro nel merito, in Albania. Ed è la forma di esternalizzazione estrema del servizio, perché addirittura era un altro Stato, neanche dell'Unione Europea, come ha fatto il governo del Regno Unito con Ruanda, dove non sono riusciti però a partire questi centri, perché vorrei vedere il trattato che ne viene fuori, che tipo di trattato sarà. In ogni caso, i rischi dell'esternalizzazione erano già stati denunciati, perché da un lato con l'esternalizzazione, quindi l'appalto a no profit, a for profit, quindi aziende con scopo di lucro, viene privilegiato l'aspetto del contenimento della spesa pubblica rispetto a quello della tutela dei diritti, di persone che sono particolarmente vulnerabili. Perché vulnerabili? Poi, in secondo luogo, se no prendo troppo tempo, in secondo luogo, la spinta concorrenziale favorisce la penetrazione del mercato da parte di soggetti che hanno un interesse concreto e quindi si entra in piena contraddizione con quella che è la filosofia della detenzione anche amministrativa, per cui ad esempio in Italia si pensava di dare in gestione addirittura alla Croce Rossa italiana la gestione dei centri per migranti di qualunque tipo, proprio perché la tradizione di uno Stato di diritto è quello di proteggere individui che non hanno commesso reati. In ultimo, ed è molto interessante anche per la notizia che ricordavo oggi di questo accordo con l'Albania, di cui, ripeto, non sappiamo il contenuto, vi è una deresponsabilizzazione dello Stato, vi è una piena deresponsabilizzazione. Si rifugge, diciamo così, quindi dalla assunzione di responsabilità della cattiva gestione o della violazione dei diritti. Guardate, questo è molto importante ed è molto concreto come elemento perché vi sono dei processi in corso per ben 30 suicidi tra il 2014 e il 2021 nei CPR di cui non si riesce a trovare la responsabilità né per il senso di giustizia e neanche per il risarcimento del danno. Quindi l'esternalizzazione veramente può comportare un'ulteriore restrizione dei diritti. non mi dilungo su un interessantissimo aspetto da approfondire che è quello dei capitolati di appalto. Dirò solo due cose. Il capitolato di appalto fino al 2018 era di un certo tipo, con i decreti e prevedeva tutta una serie di servizi da dover concedere, tra cui ore di assistenza psicologica, qualità del cibo, la qualità dei servizi. Viene ristretta il capitolato di appalto con il decreto Servini e però bisogna anche dire riallargato con la legge Lamorgese. Il problema è che essendo queste gare di appalto, quindi a ribasso, i capitolati che vengono proposti tendono a ridurre il più possibile, schiacciando verso il basso, la qualità del servizio offerto. Queste qualità del servizio, come dicevamo prima, riguardano dei servizi importantissimi come l'insegnamento della lingua, la qualità del cibo, la qualità della vita quotidiana. Importante che con il decreto cutro viene eliminata la figura dello psicologo nel CPR. Quindi abbiamo due livelli di restrizione della qualità della vita. Uno legato al fatto, come abbiamo detto prima, della gestione esternalizzata a società for profit e non solo for profit perché anche la cooperativa sociale poi per restare competitiva abbassa il livello del servizio, abbassando i costi per vincere la gara. Due, a livello legislativo perché con il decreto cutro si restringono le ore di servizi importanti, di animazione, di miglioramento della vita e addirittura viene eliminata la figura della consulenza psicologica lasciando solo l'assistente sociale. I costi di gestione, i costi di gestione tra l'altro sono elevatissimi perché sono quasi 53 milioni di euro che sono però calcolati in modo parziale perché non tengono conto delle spese correnti che sono enormi e delle spese di manutenzione straordinaria. Io guardo l'ora e vado quasi a concludere. Per quanto riguarda il rimpatrio, abbiamo detto che il rimpatrio dovrebbe essere l'unica ed esclusiva motivazione per cui esistono questi CPR. i rimpatri, come fonti abbiamo il ministero degli interni e la relazione del garante per i detenuti e le questure. I numeri dei rimpatri ballano nel senso che per esempio nella relazione del 2023 il garante per i detenuti parla di poco meno del 50% di rimpatri ottenuti. Action Aid nel report che ho menzionato prima, mettendo a confronto vari, che ho ricontrollato, ho fatto il fact checking, vari numeri del ministero degli interni, della corte dei conti anche che raccoglie i dati o per ovvi motivi di spese erariali, parla addirittura solo del 32% di rispingimenti ottenuti. e nell'ambito diciamo del 70% o del 50% o comunque in una forbice che va dal 70% al 50% di detenuti che pur essendo stati trattenuti non hanno avuto il rimpatrio, è interessante vedere che molti di questi fin dall'inizio, osservando le loro schede personali, non sarebbero stati potuti essere rimpatriati quindi venendo meno a quello che è la base della privazione della libertà, perché vulnerabili, perché di paesi in guerra perché comunque condizioni non possibili. i rimpatri possono avvenire in diversi modi, in modo diciamo così senza scorta, semplicemente notificando con la scorta, quindi con l'accompagnamento forzato dei privati della libertà personale verso la frontiera e addirittura con i voli charter ultimamente si è implementata, poiché vi sono degli accordi con dei paesi di provenienza tra cui la Tunisia che infatti vede un altissimo percentuale di propri cittadini essere rimpatriati si utilizza questo metodo charter. Ora finisco su questo spunto di riflessione in merito al decreto cutro con l'articolo 9, saltando molte cose interessantissime che mi sarebbe piaciuto dire però il comma 2 dell'articolo 9 del decreto cutro, stiamo parlando di rimpatri che elimina la necessità della convalida del giudice di pace per l'esecuzione dei decreti di espulsione giudiziaria mediante accompagnamento alla frontiera. Ora, che cosa vuol dire questo? L'espulsione normalmente è divisa in due parti una che riguarda il provvedimento vero e proprio di espulsione e due il provvedimento della modalità che ho in questo momento spiegato in modo estremamente simpatico, della modalità. La Corte Costituzionale, di nuovo in quelle sentenze che forse tu non... appunto, le sentenze della Corte Costituzionale che ho menzionato prima quindi 2001, 2004, 2017 espressamente descrivono l'atto di accompagnamento, le modalità di accompagnamento del privato della libertà residente fino a quel momento nel CPR per l'espulsione come destinatario della tutela giurisdizionale perché provvedimento afflittivo e comunque restrittivo della libertà personale quindi necessariamente sottoposto alla tutela giurisdizionale. Ben tre sentenze della Corte Costituzionale in periodi differenti con l'ultima nel 2017 indifferente a queste sentenze il decreto Cutro ha eliminato questo aspetto fondamentale perché possono in modo molto diretto posso dirlo possono in queste occasioni verificarsi delle gravissime violazioni dei diritti umani delle costrizioni e quindi è bene invece che vi sia l'occhio giurisdizionale anche in questi momenti delicatissimi dove si rimpatrano anche famigliole, donne con bambini ma non è solo poi questione di donne anche diciamo il laitante 25enne ha diritto ad avere tutti i suoi diritti in conclusione riprendo quello che ha detto nella sua relazione non faccio mio proprio quello che ha detto il garante dei detenuti e dei privati della libertà nella sua ultima relazione nei CPR vanno mantenute tre tutele fondamentali che sono sempre messe a rischio dalla legislazione parole ripeto non mie se non letterariamente comunque del garante la tutela giurisdizionale poiché laddove la libertà è privata è la prima e fondamentale tutela e non può riguardare soltanto la convalida da parte del giudice di pace ma tutti i passaggi fino a che il soggetto non è più dentro lo Stato italiano la seconda tutela fondamentale è quella della salute fisica e psichica e la terza tutela è quella che alle volte viene dimenticata che è quella della trasparenza dell'azione di trattenimento cioè mentre nelle carceri noi con fatica con difficoltà entriamo noi cittadini nei CPR neanche riusciamo a entrare e buttare un occhio grazie forse ho preso veramente molto tempo ringrazio dell'attenzione grazie collega del re invece è stato molto interessante anche l'escorso normativo che hai fatto hai citato la sentenza della Corte Costituzionale la 105 del 2002 222 del 2004 275 del 2017 hai richiamato anche la direttiva rimpatri la 110 del 2008 che è molto importante per quanto riguarda proprio il trattenimento dove si dice che non deve comunque violare la libertà personale dell'individuo tant'è vero che poi se ci ricordiamo bene noi assedito di questa introduzione direttiva rimpatri l'Italia poi è stata condannata alla Corte Giustizia Europea con sentenza del dritti del 28 aprile del 2011 quindi io credo che quello che hai sottolineato da te è fondamentale da questo punto di vista e soprattutto anche sulla questione di capitolati effettivamente adesso torniamo anche a una riduzione anche dell'orientamento legale che non c'è più oltre a quello psicologico e quindi credo che sia questo un aspetto molto rilevante che tu hai citato alla luce anche della relazione del garante dei detenuti che ha detto proprio sulla tutela giustizionale focalizzare il primo punto quindi veramente grazie vivamente da parte nostra per questo bellissimo approfondimento ora lascio la parola al collega professora Delmo Manna emerito di diritto penale presso l'insera di Foggia nonché componente della nostra commissione di diritto umane con il quale ci confrontiamo periodicamente anche su alcuni dibattiti e professore lasciale la parola sui centri di prima accoglienza e i profili costituzionali e penalistici prego questo? sì allora io ho ascoltato con grande interesse questa ricostruzione della amica avvocatessa Maria Maddalena Claudia del Re perché ci ha dato un quadro veramente molto importante di questi centri di permanenza per i rimpatri appunto finalizzati evidentemente poi alla espulsione io vorrei però a questo punto come d'altro canto prevede il titolo della mia relazione è porre questi problemi di carattere costituzionale e penalistico è vero che ci sono state queste tre sentenze nella 105 del 2001 la 228 del 2004 la 275 del 2017 della Corte Costituzionale però evidentemente la questione non era ancora giunta appunto a un punto secondo me di rottura con il principio costituzionale e a mio avviso questo momento di rottura perché qui come ricordava giustamente l'avvocatessa Derri c'è stato un escalation ma non in senso positivo in senso assolutamente secondo me negativo e peggiorativo della situazione di questi soggetti finché si è arrivati al decreto legge 124 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di politica di coesione rilancio dell'economia del mezzogiorno e immigrazione nell'ambito di questo decreto legge che chiamerei decreto omnibus ma anche questo non è una novità voglio dire nonostante che la stessa corte costituzionale abbia cercato di limitare la formulazione di questi decreti che si occupano di tutto e di più mi ricordo uno dove si inserirono delle norme penali in un decreto legge che riguardava le olimpiadi ma insomma da noi purtroppo con questa crisi del Parlamento e questa sovraesposizione del governo naturalmente questo capita l'articolo 20 del decreto legge di cui ho fatto menzione estende da 6 a 18 mesi il limite massimo nei centri di permanenza nel limite massimo di permanenza nei centri per il rimpatrio nei CPR degli stranieri in attesa di espulsione e a questo punto qui abbiamo secondo me un primo grosso problema perché possiamo arrivare fino a 18 mesi nel limite massimo di permanenza e a questo punto proprio a causa di questo decreto che li ha prorogati addirittura fino a 18 mesi di privazione della libertà personale io sono andato a compulsare un po' quelli che sono i commenti su questo decreto legge ed in particolare quello del professor Azzariti che è l'ordinario di diritto costituzionale all'Università Sapienza di Roma che speriamo magari il prossimo anno possa anche lui intervenire non poteva per impedimenti universitari oggi che in una intervista su Repubblica ha chiaramente detto ha affermato che nei centri migranti reclusi per 18 mesi questa è una misura contraria alla Costituzione ed in particolare voglio dire perché evidentemente questa prolungare questa detenzione amministrativa guardate già questo termine detenzione amministrativa è una contraddizione in termini perché la detenzione in genere è di carattere penalistico non è di carattere amministrativo tranne tutta una problematica che tratterò dopo va secondo lui contro il principio della libertà personale e i doveri inderogabili di solidarietà riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione ha ragione o no il collega Azzariti ma secondo me ha ragione in che senso nel senso che se andiamo a a compulsare e quindi a cercare di interpretare l'articolo 13 in particolare della nostra carta costituzionale ne ho portato qua il commento all'articolo 13 di Giuliano Amato che aveva scritto quel bel libro individuo autorità nella disciplina della libertà personale negli anni 60 del cosiddetto secolo breve e che quindi richiama quello che lui ha scritto e qui lui fa riferimento giustamente a due fondamentali condizioni dell'articolo 13 cioè per quanto riguarda appunto la libertà personale scusate ma questi codici hanno delle pagine è difficile riuscire a separare risparmio anche la carta ma poi diventa un problema per noi eccolo qua qui c'è un problema di riserva di legge e di riserva di giurisdizione sono le due condizioni su cui si basa appunto la libertà personale quindi non può essere ammessa alcuna forma di ritenzione se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge in casi ecco l'autorità di pubblica sicurezza come nel caso di specie può adottare provvedimenti provvisori 18 mesi a un provvedimento provvisorio io comincio a avere qualche dubbio che devono però essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e come tu ricordavi con il decreto questo non avviene più non viene più avvertita entro 48 ore l'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive 48 ore ne si intendono le evocati e restano privi di ogni effetto quindi in realtà il decreto cuto avendo eliminato il fatto che il prefetto o comunque il questore che sono competenti per irrogare questa detenzione amministrativa fino a 18 mesi siccome non hanno più l'obbligo col decreto cuto di avvisare entro 48 ore l'autorità giudiziaria che li deve convalidare se no perdono ogni effetto è contrasto evidente con l'articolo 13 della costituzione perché il soggetto evidentemente non ha quella garanzia tipica del rimedio giurisdizionale cioè del controllo da parte dell'autorità giudiziaria ed è per questo che secondo me questo decreto legge è in patente contrasto a ragione azzariti con l'articolo 13 della costituzione però io non mi fermerei qua perché a parte il discorso relativo ai doveri inderogabili di solidarietà sociale ma questo può essere un po' un discorso più di carattere teorico filosofico che più strettamente giuridico nel caso evidentemente di specie io li ho visitati a Pantelleria i centri i centri appunto non solo di prima accoglienza ma quelli di permanenza per i rimpatri sono vere e propri luoghi di detenzione e allora qui secondo me no assolutamente appunto e allora qui secondo me viene fuori un interesse proprio per causa di questa detenzione amministrativa viene fuori un problema penalistico e il problema penalistico qual è? e il problema penalistico riguarda l'unico istituto che potrebbe lontanamente direi paragonarsi alle a questi centri di permanenza per i rimpatri per poi appunto finalizzati all'espulsione sono quelle delle misure di prevenzione misure di prevenzione che anche queste incidono a livello come sappiamo di libertà personale ma ve ne sono alcuni come il domicilio coatto eccetera e come addirittura il famigerato il famigerato TULPS il testo unico della legge di pubblica sicurezza del 31 proprio il confino di polizia dove ci sono stati tanti antifascisti da Pertini voglio dire a Gramsci e a tanti altri ma costoro evidentemente per l'ordinamento erano pericolosi proprio perché sostenevano delle ideologie contrarie alla ideologia monolitica del fascismo e quindi c'era quel presupposto che poi è tipico delle misure di prevenzione qui viceversa non troviamo nemmeno questo perché non sono soggetti pericolosi fra l'altro come ricordavi quelli che sono stati detenuti per altri reati la loro pena l'hanno già scontata e quindi quando vanno nei centri in questi centri continua una detenzione si ne titolo perché la pena l'hanno già scontata e perché devono continuare la privazione della libertà personale perché tutti questi adempimenti di carattere amministrativo non vengono effettuati quando vengono legittimamente privati della libertà personale a causa del reato che hanno commesso e qui si può arrivare fino a 18 mesi voglio dire fino a 18 mesi voglio dire dicevo soprattutto scusate in particolare in particolare mi fai venire in mente uno dei principi come diceva prima la collega è proprio il fatto che spesso si trovano in questi centri per impatrio perché sono privi di documenti ma se sono stati detenuti evidentemente loro già sappiamo chi sono la nazionalità sono stati identificati quindi a maggior ragione viene meno anche quello spirito di dover capire eventualmente verso quale paese poi rimpatriarli appunto esattamente e non è un caso ripeto che queste tre sentenze della corte costituzionale sono state emanate prima del di questo decreto 124 del 2023 e quindi si capisce come evidentemente quando il problema non era diventato così non voglio dire così enorme da un punto di vista giuridico ecco perché la corte costituzionale evidentemente li aveva salvati oggi secondo me è veramente molto complesso un eventuale salvamento nel senso di ritenerli non in contrasto con l'articolo 13 della costituzione anche per un'ulteriore ragione perché come d'altro canto credo voi ben sappiate le misure di prevenzione sono scate le misure di prevenzione hanno avuto una giurisprudenza sia della corte europea dei diritti dell'uomo con la De Tommaso sia con due sentenze la 219 e la 220 del 2019 della corte costituzionale italiana che hanno ritenuto le misure di prevenzione appartenenti al diritto amministrativo o al diritto civile in base a questo modello inglese che è la civil forfeiture e infatti il relatore è stato in questa sentenza il professor Francesco Viganò mio caro amico giudice della corte costituzionale però questo orientamento molto tradizionalista e conservatore della corte europea da un lato e della corte costituzionale dall'altra recentemente da parte della corte europea dei diritti dell'uomo e qui non invado il tuo caro stai tranquillo da parte della corte europea dei diritti dell'uomo sulle misure di prevenzione ha cambiato orientamento ha cambiato orientamento perché voglio dire c'è stato un caso molto rilevante in Sicilia ricordo che ne abbiamo discusso anche parecchio nell'open day dell'unione delle camere penali italiane a Rimini appunto quest'estate quando il tempo era bello e c'erano lì uno di queste persone che erano state assolte per concorso esterno in associazioni di tipo mafioso ciò nonostante erano state applicate a loro a tutta la famiglia la confisca come misura di prevenzione che non agisce sulla libertà personale ma agisce attenzione sul patrimonio ma il patrimonio è collegato alla libertà personale che che ne dica il mio amico e collega Giovanni Fiandaca perché se a un certo punto ha una famiglia tu gli sequestri e confischi l'intero patrimonio questo incide anche sulla libertà personale evidentemente perché come fanno e proprio sulla persona come fanno a campare costoro allora sono andati alla corte europea dei diritti dell'uomo e la corte europea con un importante pronunciamento cosa ha fatto ha messo in mora lo stato italiano che dovrà pronunciarsi entro il prossimo 13 novembre perché la corte europea si è posta alla fine ci sono arrivati pure loro era ora insomma per carità absit neura verbis per carità voglio dire però ci sono arrivati perché ci sono chiesti evidentemente per caso era talmente evidente hanno detto ma scusate com'è possibile che gente che è stata assolta in un processo penale poi viene confiscata l'intero patrimonio ma questo non contrasta con la presunzione di innocenza di cui è l'articolo 6 della corte della convenzione europea dei diritti dell'uomo e non contrasta col principio di stretta legalità di cui è l'articolo 7 o ergo prevedibilità delle decisioni giudiziarie perché questa in realtà è una pena di sospetto voglio dire una sanzione amministrativa ma che in realtà camuffa una sanzione di carattere penale e a questo punto proprio perché la corte europea ha ritenuto le misure di prevenzione in contrasto con la presunzione innocenza e con il principio di stretta legalità vediamo ora che cosa entro il 13 novembre deciderà sul punto perché la palla è stata rinviata allo Stato italiano e c'è a questo proposito un progetto di legge di Forza Italia che tende a fare che cosa? Inserire cioè le misure di prevenzione per dargli una guardate che nella carta costituzionale noi la costituzione prevede due sole sanzioni penali come sappiamo le pene e le misure di sicurezza le misure di prevenzione non ne parla poi fu il ministro Scelba che nel 56 le reintrodusse con la famosa legge 56 la 1423 eccetera però vi devo dire che l'attuale appunto presidente pro tempore ma eletto all'unanimità della Corte Costituzionale il professor Augusto Barbera che è stato ordinario di diritto costituzionale all'Alma Mater Studiorum di Bologna ha scritto appunto nel commento sull'articolo 2 della Costituzione e anche in altri saggi che cosa che è l'unica via per salvare le misure di prevenzione è quella di trasformare le misure di sicurezza così trovano una loro legittimazione costituzionale e allora se ora che è presidente della Corte può essere che la questione arrivi e quindi sotto questo profilo non credo che certo è presidente non è che decide lui ci sono anche gli altri però voglio dire c'è un cambiamento sia da parte della Corte Europea che anche da parte della speriamo della Corte Costituzionale e se allora le questioni stanno in questa maniera come si può a maggior ragione ritenere costituzionalmente legittime questo tipo di detenzione amministrativa nei centri di permanenza per impatti perché vedete almeno nelle misure di prevenzione sono appena del sospetto cioè qualche cosa uno cioè qualcosa devi aver pur fatto no pensate agli oziosi e ai vagabondi no perché gli si davano le misure di prevenzione personale l'ammonimento da parte del prefetto gli diceva ragazzo non metterti più lì alla stazione termine e chiedere il soldino perché avevano paura che poi da quello andassero a commettere furti o peggio ancora voglio dire però ecco pene appunto del sospetto però qualcosa facevano no gli oziosi i vagabondi eccetera queste misure di prevenzione personale ma poi vedete anche in quelle patrimoniali le famose misure antimafia anche lì cosa ci deve essere uno squilibrio tra il reddito dichiarato e il reddito mostrato concretamente e una mancata dimostrazione della legittima provenienza di questo bene ma qui vedete che quindi c'è un c'è questo sospetto c'è qualche cosa che ricorda non un reato ma un fatto illecito qui non c'è assolutamente nulla perché questi soggetti l'abbiamo visto nel famoso film voglio dire io capitano arrivano mezzi morti voglio dire sul suolo patrio e poi vengono messi in questi centri permanenza per i rimpatri in attesa poi della loro espulsione ma fino a 18 mesi senza che abbiano commesso assolutamente nulla nemmeno il sospetto di aver fatto chissà che cosa se ricordiamo ancora il tulps del 31 il famigerato tulps lì almeno erano un'attività ma anche lì c'erano notevoli limitazioni non potevano parlare con le altre persone con i cittadini delle isole dove stavano dovevano non potevano uscire se non dopo le 6 del mattino e rincasare non più tardi delle 10 di sera dovevano fare delle vite monacali eccetera proprio ma perché perché rappresentavano un'ideologia contraria a quella del regime qui non manco questo cioè qui sono solo dei soggetti che a un certo punto hanno dovuto fare un enorme tragitto fra l'altro con questi centri di tortura in Libia e qui poi rientriamo appunto nel decreto culto problema della Tunisia dei paesi sicuri paesi non sicuri eccetera e arrivano qua da noi quindi secondo me primo problema è quello che è il centro di permanenza per i rimpatri prorogato fino a 18 mesi contrasta secondo me a ragione a Zariti contrasta proprio con l'articolo 13 soprattutto non solo non tanto sotto profilo della riserva di legge perché comunque sono decreti legge che poi devono essere ma soprattutto per la riserva di giurisdizione perché non c'è in realtà una tutela giurisdizionale poi con dei tempi così brevi come richiede l'articolo 13 della Costituzione quindi secondo me la loro incostituzionalità questa volta è addirittura eclatante fino a 18 mesi è veramente notevole questo per quanto riguarda il primo dei punti che intendo trattare il secondo è addirittura quello relativo a questo decreto questo è proprio un decreto non è un decreto legge questo è un decreto del ministro dell'interno quindi è un decreto un atto amministrativo del 14 settembre 2023 dove per quanto riguarda sempre questi soggetti appunto che sono rinchiusi nei centri di permanenza per i rimpatri cosa devono fare costoro hanno una scelta prevede questo decreto amministrativo siccome giustamente ricordavi che sono anche abbastanza costosi questi centri quindi poi sono gestiti da privati hanno anche loro spese anche però anche i loro guadagni eccetera allora cosa succede allora succede che colui che dovrebbe entrare nel centro di prima accoglienza gli si richiede un'idonea garanzia finanziaria e questa garanzia finanziaria è in grado di garantire allo staniero per un periodo massimo di trattenimento pari a quattro settimane la disponibilità uno di un alloggio adeguato sul territorio nazionale due della somma occorrente al rimpatrio e tre dei mezzi di sussistenza minimi necessari a persona quindi per campare sostanzialmente e poi la somma occorrente evidentemente anche per rimpatriare e pensate voi che nell'articolo 2 questo che vi ho letto è l'articolo 1 l'articolo 2 prevede una somma di ben 4.938 euro ora io domando a voi e domando a chi ci sta a sentire come fa una persona che appena ha sbarcata nel nostro paese ad avere 4.938 euro mi raccomando i 38 euro 0 0 per fortuna i centesimi non ce l'ha messi ma come fa ad avere 4.938 euro ma se sono morti di fame ma se l'abbiamo visti quando arrivano ci mettono il cellofan attorno e questi poveracci alcuni addirittura muoiono eccetera arrivano mezzi morti già hanno dovuto pagare ai voglio dire ai libici soprattutto perché sennò subiscono torture nei centri lì come abbiamo visto il mio capitano eccetera ma non solo eccetera e come fanno ad avere 4.938 euro e allora perché qui questa è la scelta o pagano 4.938 euro e allora non entrano nel centro di prima accoglienza oppure se non hanno questi fondi allora evidentemente l'alternativa è quella di entrare nel centro di prima accoglienza e poi attenzione quindi o è proprio alternativo o si paga oppure c'è il trattenimento nei centri nei centri appunto di permanenza per l'impatria quindi è un'alternativa secca poi deve avvenire ci dice l'articolo 3 in un'unica soluzione mediante fidegussione bancaria o polizza fidegussoria assicurativa dove trovano costorno a banca è un prestito oppure un'assicurazione cioè voglio dire ed è comunque individuale non può essere versata da terzi no non può essere versata da altre persone che magari non so la caritas o una cosa no deve essere proprio lui perché altrimenti non vale nemmeno perché deve essere proprio lui che subisce una cosa se no finisce nel centro di attenzione fino a 18 mesi anche questo decreto è un decreto amministrativo siamo d'accordo non voglio dire però è comunque un decreto che è costituzionale oppure no perché anche decreti amministrativi voglio dire non è che non soggiacciono alle norme costituzionali e a mio giudizio e non solo a mio avviso anche questo decreto amministrativo è presenta grossi profili di incostituzionalità un altro importante costituzionalista che spesso scrive su Repubblica che è Michele Ainis che ho conosciuto perché insegnava anche lui all'università di Foggia o l'università di Roma non so quale dell'università di Roma insegna lì che cosa giustamente pone pone che un problema di questo genere contrasta con l'articolo 10 della costituzione col diritto di asilo perché se noi andiamo a leggere il diritto d'asilo articolo 10 eccolo qua lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio di libertà democratica garantita dalla costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge quindi non può un decreto amministrativo sostituirsi alla legge e quindi sostanzialmente privarlo di un diritto di asilo perché evidentemente è ovvio che se non ha questi 4.000 finisce nei centri e quindi evidentemente non viene sostanzialmente accolto il suo diritto di asilo quindi secondo me è vero che è un decreto amministrativo però attenzione voi potreste dire caro professore ma è un decreto amministrativo è un decreto il ministro interno come fa la corte costituzionale a occuparsene la risposta non è complicata certo lo sappiamo che voglio dire è un atto amministrativo e quindi anche comunque se fosse una legge noi abbiamo una regola per cui ci deve essere un controllo giudizionale da parte del giudice ordinario o del giudice amministrativo che sia perché non abbiamo il ricorso diretto come hanno dal Messico alla Spagna alla Francia alla Germania eccetera noi perché siamo un paese causidico abbiamo previsto nella legge del 48 e quella del 53 di funzionamento della corte costituzionale che sia un giudice a quo che dichiari la questione non manifestamente fondata e rilevante per il processo in corso quindi di fronte a un decreto ministeriale ovvio che è di competenza del tribunale amministrativo regionale che evidentemente se viene impugnato questo decreto e quindi il TAR nel caso di specie il TAR del centro di prima accoglienza dove viene impugnato se viene impugnato un decreto di questo genere può ritenere la questione non manifestamente fondata e rilevante per il processo in corso anche perché questo decreto fa parte integrante del decreto legge di cui vi ho parlato e facendo parte integrante secondo me si inserisce in quello diventa parte integrante e quindi voglio dire sotto questo profilo viene sostanzialmente parificato alla legge in senso formale quindi voglio dire se vogliamo tirare le conclusioni di questo complesso discorso ora poi c'è questa novità di cui abbiamo accennato prima addirittura tu ne parlavi giustamente del adesso anche il problema dei centri di permanenza addirittura in in Albania ma l'Albania per noi evidentemente è un fascino particolare scusate però anche lì contrasta col diritto d'asilo perché evidentemente come fanno a crearsi dei centri di prima accoglienza fra l'altro in un paese che non rientra fra quelli dell'Europa non è il trattato di Schengen nella maniera più assoluta tra l'altro sarebbe opportuno capire professore come andrà disseminata la richiesta di asilo fatta in un paese terzo non comunitario non dall'Unione Europea esattamente questo è un aspetto e l'altro aspetto che si discuteva con alcuni colleghi professori e avvocati era relativo al fatto che sulla nave come si fa poi effettivamente perché è un trasferimento ma se la nave comunque non può garantire le condizioni di accoglienza perché quando parliamo di luogo sicuro non parliamo solo riferiti diciamo all'imbarcazione che arriva ma facciamo riferimento alle condizioni di alloggio relativa al vestiario all'abbiglamento e al vitto quindi come possiamo garantire un'imbarcazione provvisoria a questo aspetto quindi questo secondo me è un'altra criticità che si può ravvisare da questo punto di vista di accordo potrebbe intervenire la Corte di Giustizia anche rispetto al trattato internazionale sarà complicatissimo perché infatti ho sentito stamattina la rassegna stampa che qualcuno parlava di centri che sarebbero stati poi extraterritoriali quindi gestiti come un'ambasciata ma ovviamente quello che è la nomina dell'ambasciatore dell'attaché dei funzionari le chimetti che poi sono esternalizzati addirittura in Italia i servizi io vorrei vedere anche il trattato internazionale che cosa ne viene fuori con uno stato qui secondo me è fuori scendio ma non solo ma secondo me interviene anche l'articolo 80 della Costituzione per quanto riguarda i trattati ma certo appunto appunto esatto è tutto collegato e anche il 117 come norma interposta delle norme comunità internazionali della Tori Schengen eccetera quindi anche qui ci troveremo di fronte faremo un nuovo convegno ma a me quello per concludere che voglio dire mi lascia forfondamente perplesso non solo come giurista ma anche come persona voglio dire è che questa gente veramente che di colpa non ha nessuna colpa voglio dire io sono rimasto veramente molto colpito da questo film io capitano che non hanno assolutamente alcuna colpa vengono trattati in questa maniera voglio dire si dice sempre che l'Italia è la culla del diritto ma io ho l'impressione che questa volta l'Italia il diritto sia in culla in Italia tutti in finito esattamente grazie grazie infinito professor Manna che ci ha illustrato i punti di vista costituzionali anche processual penalistici che sono molto importanti da questo punto di vista e ha sollevato anche questo ulteriore convegno che potremmo fare per quanto riguarda l'accordo che si è sottoscritto tra Italia e Albania ora lascio la parola al collega Luigi Chirelli componente della Commissione di Tiumani che ci parlerà delle recenti sentenze della CEDO proprio in materia di accoglienza di cittadini strani di Paese Terzo prego Avvocato Chirelli Buon pomeriggio è un piacere intervenire soprattutto dopo le relazioni dei colleghi del professore e in particolare è facile anche riallacciarsi a quanto è stato detto finora perché tra virgolette vedremo all'atto pratico poi tutte queste problematiche come sono state affrontate anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo come sapete come sapete la Corte Europea dei diritti dell'uomo è stata istituita il 4 novembre del 1950 quindi diciamo il compleanno è di questi giorni e tra la giurisprudenza più recente ho selezionato due sentenze in particolare che illustrerò con voi la prima che è poi quella di cui avete sentito parlare tutti anche recentemente ai Tg è quella che riguarda il ricorso presentato da 4 tunisini che sono stati trattenuti presso il centro di Lampedusa in realtà come dire i Tg ne hanno parlato come se fosse una sentenza recentissima è del marzo 2023 di quest'anno del 30 marzo ed è diventata definitiva il 30 giugno 2023 perché come sapete diciamo il governo italiano ha chi in qualche modo subisce questa condanna ha possibilità di appellare la sentenza alla grande camera una sorta quindi di appello e se non lo fa nei tre mesi diventa definitiva quindi questa è definitiva di cui adesso parlerò ed è definitiva dal 30 giugno 2023 in particolare affronta alcuni articoli del trattato e sono gli articoli 3 5 e 4 del protocollo della convenzione dei diritti dell'uomo ne aveva accennato già la collega del re in particolare l'articolo 3 nel quale siamo si proibisce la tortura quindi nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene e trattamenti inumani o degradanti e l'articolo 5 invece in particolare il comma 1 lettera f e poi i commi 2 e 4 e fanno riferimento come accennava prima la collega del re al fatto che nessuno può essere privato della libertà personale e che l'arresto la detenzione devono essere regolati anche nel caso in cui questo è per impedire un'entrata illegale nel territorio nazionale ma comunque il soggetto deve essere sempre informato dei motivi dell'arresto e dell'accusa a suo carico e la persona privata della libertà deve essere messa in condizione di poter presentare un ricorso al tribunale quindi a un'autorità giudiziaria che valuterà la sua posizione infine questo è particolarmente interessante l'articolo 4 del protocollo prevede che è vietato il respingimento collettivo ed è proprio quello che è stato fatto in questo come in molti altri casi la sentenza è molto lunga ma ovviamente io ho evidenziato i punti principali e cercherò di esporla brevemente con voi sì sì certo la sentenza fa riferimento al ricorso 21329 del 2018 ed è facilmente reperibile ed è facilmente reperibile sia sul sito della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dove ovviamente trovate tutte le sentenze ma sono soltanto in inglese e in francese mentre sul sito del governo italiano adesso non ricordo il sito devo essere sincero ma è facilmente reperibile su Google queste sentenze vengono tradotte con traduzione giurata in italiano infatti questa per fortuna anche se è molto lunga è in italiano l'altra di cui vi parlerò è solo in inglese per fortuna breve allora i fatti brevemente sono quelli occorsi nel 2017 il 15 ottobre 2017 e diciamo riguardano quattro tunisini infatti la sentenza è quella J.A. diciamo per privacy sono state indicate soltanto le iniziali ed altri quindi quattro tunisini che sono sbarcati a Lampedusa il 16 ottobre 2017 che sono stati trattenuti presso il centro di detenzione fino al 26 ottobre quindi 10 giorni e poi svegliati la mattina presto caricati su un aereo e portati con sapete i voli speciali dall'aeroporto di Palermo direttamente a Tunisi ora in particolare si evidenzia ed ecco perché poi l'Italia è stata condannata per il trattamento inumano e per diciamo come dire l'espulsione collettiva ma non come nel caso che accennavi tu Maddalena per l'articolo 5 per esempio di cui ho appena detto perché come perché ci sono state diverse relazioni anche del garante dei detenuti anche del commissario ONU che ha ispezionato diciamo più volte questo centro questa struttura e anche relativamente diciamo alle procedure di asilo dove si evidenziano che proprio le misure di accoglienza e come dire proprio il garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale in diverse ispezioni ha evidenziato che i locali erano assolutamente sovraffollati come sappiamo come vediamo nei DG assolutamente una mancanza totale di igiene e persino il rapporto del Parlamento e del Senato della Repubblica ha evidenziato queste criticità e stiamo parlando comunque del 2017 poi sappiamo che la situazione si è evoluta in peggio purtroppo e sono state appunto trattenuti dieci giorni e nonostante e qui ritorno alla sentenza della Corte Costituzionale di come parlavamo prima quindi la 105 del 2001 la giurisprudenza quindi relativamente recente che poi diciamo la Corte Costituzionale ha avuto questa evoluzione univoca dove si evidenzia che il trattamento dei cittadini stranieri nei centri di prima accoglienza ed assistenza devono essere ovviamente approntate alla tutela della persona e che devono essere adottate tutte le garanzie di cui all'articolo 13 della Costituzione purtroppo poi spesso sono lettera morta come sappiamo e soprattutto si evidenzia come il giudice può disporre l'esecuzione dell'espulsione ma non mediante una mera intimazione bensì mediante l'accompagnamento alla frontiera che causa ed è qui proprio il punto per il quale è stata condannata l'Italia quindi in contrasto a quello che è la normativa queste espulsioni collettive evidentemente sono contro ogni regola di diritto proprio perché questo accompagnamento coattivo alla frontiera pone anche una limitazione della libertà personale dello straniero ed è diciamo una misura assolutamente abnorme proprio perché non vagliata sul singolo soggetto sul singolo quinto emigrante ma a massa come si dice un po' volgarmente questo perché perché poi per motivi pratici sappiamo che c'è ovviamente la convenzione diciamo di rispingimento quindi gioca forza è più facile che vengano presi con questi voli chiamiamoli speciali e tutti insieme portati di nuovo verso Tunisi con questi rispingimenti collettivi come vi dicevo in questa sentenza in particolare ha condannato quindi l'Italia non solo sì 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 e in particolare come vedremo appunto l'Italia è stata condannata non solo per il trattamento in umano perché come dicevo prima contro ogni anche per le condizioni della struttura anche contro la stessa circolare del ministero dell'interno del 6 ottobre 2015 che appunto per gli hotspot in particolare della Sicilia che sappiamo è interessata del fenomeno migratorio quindi a Lampedusa a Pozzallo a Portempere a Ducle e a Trapani e diciamo ovviamente il ministero dell'interno dava una certa direttiva che poi non è stata assolutamente presa in considerazione non sono stati l'Italia però non è stata condannata contrariamente a quanto chiesto nel ricorso presentato il 26 aprile 2018 quindi dopo che evidentemente sono stati rimpatriati per il discorso invece dell'arbitraria privazione della libertà in particolare sul fatto che loro non siano stati messi in grado di poter presentare subito il ricorso al giudice nonostante ci sono diverse comunicazioni dell'avvocato che poi li ha assistiti evidentemente sia alla prefettura sia alla questura perché come sapete il provvedimento ovviamente lo prende il prefetto ma poi materialmente lo esegue la questura quindi vado avanti perché evidentemente queste se no è inutile soffermarsi sugli altri punti della sentenza ecco come vi dicevo anche le Nazioni Unite proprio il comitato delle Nazioni Unite ha evidenziato queste carenze igienico-sanitarie e questo sovraffollamento della struttura e quindi nel merito la Corte ha ritenuto fondate diciamo le richieste di questi migranti e ha condannato l'Italia per la violazione vado velocemente dell'articolo 3 come abbiamo visto prima sul discorso della tortura quindi molto grave perché nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti e quindi evidentemente è proprio il fatto che erano trattenuti in un contesto assolutamente privo di qualsiasi carattere minimo di igiene e secondo l'articolo 41 della Convenzione che prevede quindi un equo ristoro a chi ha subito questo danno ha riconosciuto per ogni migrante una sorta di risarcimento di ristoro più che risarcimento è proprio un ristoro di 4.000 euro per ogni migrante più 8.500 euro per ogni migrante l'Italia è stata condannata a pagare 8.500 euro per ogni migrante più 4.000 euro per spese legali sostenute quindi questo è il caso proprio di questi ultimi giorni di cui appunto hanno parlato tutti i DG e per questo mi sono soffermato sia per una questione proprio temporale sia perché investe il discorso della tortura e dell'espulsione collettiva che è stato oggetto appunto anche di uno scontro politico evidentemente e perché è proprio tra le ultime tra le più recenti in particolare una nota proprio pratica chi volesse approfondire anche altre sentenze perché per motivo proprio di tempo non porto qui diciamo in questa relazione devo dire che il sito della Corte Europea è molto ben fatto perché è facilissimo basta cliccare sullo Stato quindi per esempio io voglio vedere tutte le sentenze che hanno visto condannare l'Italia piuttosto che la Spagna o che ne so la Germania clicco sull'articolo quindi voglio vedere articolo 3 tortura per esempio e mi escono ovviamente tutte queste sentenze solo che ripeto sono soltanto in inglese e in francese poi su questo sito del governo italiano invece periodicamente vengono tradotte con la traduzione giurata il secondo caso che ritengo sia di particolare importanza che vorrei esporvi invece fa riferimento anche questo all'articolo 3 quindi alla tortura ma in particolare questo perché mi ha colpito per due motivi questo per esempio ancora non è stato tradotto in italiano quindi è solo in inglese perché e questa è la sentenza la sentenza relativa al ricorso 70583 del 2017 la sentenza è recentissima perché è del 31 agosto 2023 e come dicevamo prima questa ancora non è definitiva perché ancora l'Italia volendo eh manca la che non c'è eh sì appunto manca la grande camera al 30 al 30 novembre e tre mesi credo che la norma parla di tre mesi non 90 giorni quindi va bene giorno più giorno meno quindi entro fine novembre se il governo italiano spero che veramente sì la traduco io se fosse stato in francese sarebbe stato ancora più semplice ma devo dire è molto semplice da si limita però alla traduzione non poi all'attuazione del no 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 ma la cosa allora ritengo ragionevolmente che il governo italiano non la impugnerà perché è veramente un caso clamoroso e molto grave che devo dire mi ha colpito prima ancora che come avvocato come uomo come padre perché qua coinvolge una ragazza minorenne all'epoca che ehm è stata stuprata eh allora la ragazza viene veniva dal Ghana ok è stata stuprata nel suo paese nel in Ghana da un uomo che ovviamente le prometteva di venire in Italia sai una vita migliore come succede spesso e poi portata in Libia da un altro uomo che diceva che eh avrebbe avuto una bella vita sarebbe venuta in Europa insomma stuprata anche in Libia ok questo da un altro uomo quindi pensate poverina questa che ha subito e è arrivata poi dalla Libia in Italia il 28 settembre 2017 no scusate il 28 settembre 2017 ha proposto ricorso ha proposto ricorso è arrivata a Reggio Calabria stranamente sbarcata quindi in Calabria il 22 ottobre 2016 poi ed era ancora minorenne e poi il 31 gennaio 2017 il Tribunale dei minorenni aveva proposto diciamo la procedura quella di adozione o comunque che venisse diciamo ospitata nei centri come sappiamo per i minori non accompagnati no? nonostante questa nonostante in questo caso oltretutto quindi persona fragile come dicevi prima tu che doveva essere al di là dell'età vulnerabili sì non solo minorenne ma sotto vari punti di vista appunto quindi questo è clamoroso veramente questo caso quindi poi in realtà il 10 febbraio 2017 non si sa per quale peripezia arriva al centro Osvaldo Cappelletti di Como che devo dire io non conoscevo questo centro di Como che è un centro allora nel 2017 febbraio 2017 lei era ancora minorenne era appena diventata maggiorenne perché lei è di novembre 99 novembre 99 no era ancora minorenne febbraio 2017 quindi ancora minorenne per pochi mesi per pochi mesi Paolo tu così mi fai confondere era ancora minorenne e viene trasferita quindi a Como addirittura quindi da Reggio Calabria trasferita a Como nella sentenza non si dice per quale motivo arriva a Como e rimane in un centro per maggiorenni quindi un centro normale un CPR dal 10 febbraio al 4 ottobre 2017 questa ragazza è rimasta otto mesi otto mesi in questo centro e addirittura sono stati appurati anche non direttamente nei suoi confronti ma negli altri diciamo degli altri stavo dicendo detenuti perché detenuti alla fine sono trattenuti episodi di piccola criminalità e anche episodi di moleste sessuali oltretutto poi finalmente viene diciamo rilasciata da questo centro che comunque era già sovraffallato 180 persone più 45 e qui dice children in inglese comunque ragazzi ok e ragazzini insomma e il ricorso verte proprio sull'articolo 3 quindi sul sempre sul discorso della tortura e oltretutto la corte fa riferimento anche alla sentenza califa ed altri quella che dicevi prima tu sempre sul discorso della tortura soprattutto però qui parla di califa e altri contro Italia poi ci sono altre per esempio sempre vittime di abusi o comunque persone fragili mentalmente e psicologicamente ci sono altre sentenze per esempio contro il Belgio ok quindi evidentemente questioni abbastanza diffuse purtroppo non soltanto in Italia finalmente dicevo a giugno 2017 viene accettata la sua viene presa in carico la sua richiesta di asilo nonostante anche in questo caso gli avvocati avevano più volto chiesto che quantomeno fosse trasferito in un centro come dicevi prima tu più idoneo a una ragazza prima minorenne poi dopo neomagerenne e su questo è molto chiara la corte dove dice che questi otto mesi sono stati assolutamente tortura senza giri di parole ok e aveva chiesto anche nel ricorso che diciamo che fosse valutata la violazione dell'articolo otto che spesso ricorre anche diciamo quando noi certo quando noi affrontiamo i nostri nei nostri convegni nei nostri anche in commissione che brevemente diciamo vi cito è articolo otto diritto a rispetto della vita privata e familiare in questo caso però non viene riconosciuto solo l'articolo tre l'Italia è condannata soltanto l'articolo tre comunque per tortura non è poco quindi ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare del proprio domicilio e della propria corrispondenza no questo comma 2 è ancora più pregnante non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che in una società democratica come prima accennavi pure tu professore è necessaria alla sicurezza nazionale alla pubblica sicurezza al benessere economico del paese alla difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati alla protezione della salute e della morale alla protezione dei diritti e delle libertà altrui è ovvio che qui non è che potevano inventarsi l'ipotetico terrorista questa è una ragazza che certo non poteva rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale né tantomeno per l'ordine pubblico in conclusione l'italia è stata condannata ai sensi dell'articolo 3 della convenzione e sempre come dicevo l'articolo 41 quindi il ristoro a pagare 6.000 euro a titolo di quindi insomma di ristoro di danno e 4.000 euro di spese legali i 4.000 euro sono fissi ormai quindi casomai fate parcelle più alte forse allora quindi in questo concludo questo mio intervento e poi non so se vogliamo affrontare diversamente altre questioni grazie 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 a Luigi Grelli per questo approfondimento che ha citato due importanti sentenze una del 2023 del 30 giugno diventata definitiva l'altra del 31 agosto che hanno approfondito i temi in particolare entrambi hanno richiamato proprio delle condanne che l'Italia ha subito per la violazione del protocollo dell'articolo 4 mentre l'altra proprio un trattamento molto degradante configurato nei confronti di una minore non accompagnata nonché vittima di tratta che è stata comunque ristretta sulla libertà personale in una struttura anche con neomaggiorenni quindi io il quesito che pongo adesso ai colleghi qui dove si sta andando cioè andiamo verso una regressione di diritti umani secondo voi con alcuni provvedimenti una regressione di diritti umani secondo voi regressione parla prima il professor Mannas no 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 ma secondo me sì non c'è dubbio perché l'abbiamo visto voglio dire rispetto all'epoca in cui il ministro dell'interno era Minniti che quindi andava addirittura nei paesi di cui si dubitava la sicurezza per come in Libia per esempio eccetera per vedere lì come stavano effettivamente le questioni eccetera invece ora direi la politica è di orientamento totalmente diverso tant'è che questo decreto legge porta la detenzione fino a 18 mesi e poi c'è quel problema della cauzione dove si capisce che viene importato in Italia il modello della giustizia penale americana ma lì la cauzione è fatta evidentemente per delinquenti ricchi voglio dire non è fatto per questi soggetti ma secondo me ecco quello che mi viene da pensare è poi questo quindi c'è una regressione e ci sarebbe ancora di più laddove venissero accolti quei progetti di legge mi ci hai fatto pensare che addirittura vorrebbero abolire il reato di tortura questo secondo me fra l'altro il reato di tortura come sappiamo la sua versione definitiva è anche stata indebolita rispetto perché ci vogliono due condotte e lì non si capisce perché due un waterboarding fatto una volta sola sempre tortura non è perché ce ne deve essere state due non si capisce e poi e quindi è già stato fortemente indebolito ma se si arrivasse addirittura a un'abolizione del delitto di tortura sarebbe ancora di più una voglio dire una iattura per quanto riguarda la protezione dei diritti della persona che evidentemente senza distinzione come ci dice la Costituzione che oggi vorrebbero cambiare e spero che in questo non avvenga voglio dire appunto senza distinzione di sesso razza come sappiamo eccetera e questo che abbiamo oggi discusso dimostra proprio questo c'è una regressione secondo me se posso una battuta proprio il diavolo è nei dettagli e nulla dimostra di più come la regressione di cui tu ci chiedevi che secondo me è in atto sui diritti umani si sviluppa nei dettagli dove appunto questo convegno lo dimostra con gli interventi apprezzatissimi dei colleghi dove veramente per capire qual è questa direzione dove sono le regressioni bisogna andare a scavare in una infinità di norme compararle seguirle nella successione di leggi quindi come sempre è accaduto in svolte autoritarie la perdita della tutela del diritto non è un attacco frontale al diritto ma è uno scavare un aggirare l'ostacolo facendo interventi come ricordava appunto anche per esempio Adelmo il professor Manna Adelmo come ricordava Adelmo con dei decreti ministeriali o come abbiamo visto nella esternalizzazione di un servizio in un capitolato di appalti che come ricordavi tu Paolo il professor Giafrate toglie l'assistenza legale dentro i centri cioè quindi è in queste piccole cose che sommate che piccole già non sono che comunque sommate ci fanno un po' almeno a me inquietare Vi pongo un quesito però e questo voglio anche la risposta ma secondo voi vi ricordiamo la legge 47 del 2017 ha anche comunque abolito un grade d'appello ha sottoscritto l'accordo con la Libia quindi a prescindere da con posizione governativa perché parliamo di un altro governo comunque ha limitato la libertà personale e i casi che ha citato prima il collega Chilelli comunque riguardano sempre il 2017 ora per quanto riguarda invece la possibilità e questo è un diciamo futuribile no che se ne parla molto di richiedere asilo presso delle strutture extraditoriali che potrebbero essere anche l'ambasciato delle strutture adibite cosa ne pensate voi da questo punto di vista sento tutti i relatori sul punto prego allora al di là del fatto che poi non so fino a che punto questo questo trattato andrà in porta perché spesso credo che siano semplicemente motivazioni politiche perché sappiamo che l'Albania vuole entrare nell'area Schengen vuole entrare in Unione Europea quindi ha bisogno della spalla del governo italiano e credo che non sia soltanto un discorso di questo governo lo avrebbe fatto in passato e lo farebbe anche in futuro il punto che dicevamo prima con te al di là del fatto se è giusto o se è sbagliato ma all'atto pratico ma se io vengo portato in Albania io migrante ok ma poi a quale commissione territoriale io faccio la domanda di protezione internazionale se sbarco ad Agrigento il prefetto di Agrigento mi fa il provvedimento di espulsione io magari comunque formalizzo la domanda di protezione internazionale sarà la commissione territoriale credo di Palermo insomma se sbarco a Catania sarà di Catania se sbarco a Crotone sarà la commissione di Crotone e poi a caduta evidentemente sarà il tribunale sezione specializzata di Catanzaro per dire per Crotone ok in questo caso ma se io vengo sbarcato a Durazzo e vengo trattenuto in un campo in un CPR chiamiamolo così in una struttura in Albania ma chi è il mio giudice naturale ma quale commissione allora sarà una commissione unica anche questo sono assolutamente d'accordo aggiungerei poi che il problema è un problema molto più ampio evidentemente perché noi siamo un paese tre parti c'è il mare e quindi naturalmente siamo quelli più esposti a questi interventi di migranti eccetera allora il problema è più ampio il problema è quello che ogni paese dell'Unione Europea dovrebbe farsi carico di una problematica di problematiche di questo genere ci sono già centri di prima accoglienza anche in altri paesi europei però certo non così non così frequenti come a livello italiano però quello che sono d'accordo con te quello che trovo assolutamente non condivisibile è che si vadano addirittura a estendere questi centri di permanenza e rimpatrio addirittura in paesi non appartenenti all'Unione Europea dove non c'è quella tutela prevista dalle convenzioni dai trattati dell'Unione Europea e dove manca il giudice naturale precostituito per legge non solo nell'ambito albanese ma soprattutto perché manca il riferimento alla Corte Europea dei diritti dell'uomo eccetera a cui evidentemente non si può andare perché il paese non è e allora a questo punto ancora di più secondo me queste persone vengano trattate come dice un grande giurista tedesco Jacobs voglio dire molto conservatore come Nistperson come non persone ma lì si spiega l'idea della non persona se la persona si pone in contrasto con lo Stato ma queste sono persone che non si pongono in contrasto con lo Stato non sono appartenenti a una criminalità organizzata sono persone a cui nessuna colpa può essere e questo è secondo me la contraddizio in termini se vengono trattati come soggetti delinquenti senza aver commesso assolutamente nulla e a maggior ragione se questo avviene con paesi che non appartengono l'Unione Europea ho il tempo per una battuta proprio molto sintetica sono d'accordo ovviamente con quello che hanno detto i colleghi relatori e il pericolo vero appunto è che vengano meno la tutela giurisdizionale come sottolineava sia Luigi sia Adelmo la tutela della qualità all'interno di queste strutture quindi già condannata l'Italia il problema del controllo del riferimento delle norme per questo anche non so in quale intervento mi ero inserita prima per dire che dovrebbero essere considerati come extraterritoriali come le ambasciate perché allora a quel punto con questa fixio giuridica si potrebbero essere comunque soggette alle normative europee ma con una diciamo così bizzarra situazione perché non è che c'è il diplomatico nominato da ministro degli esseri o concorso insomma quindi la situazione è veramente bizzarra e terzo poi anche il controllo lontano dagli occhi lontano dal cuore abbiamo visto che già il problema del controllo della vicinanza con la cittadinanza dell'assunzione di un problema umano e sociale della nostra società viene sempre più cercato di essere respinto la società italiana non vuole assumersi questi problemi li mettiamo addirittura in Albania e lì secondo me differenza diciamo valorizzo quanto ha detto Azzariti sul principio di solidarietà perché cioè no 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 nel senso che appunto è fondamentale perché o siamo una società solidale o siamo una società repressiva vorrei anch'io richiamarlo in questo Azzariti ha ragione perché invece la società italiana si dimostra respingente si si tutta la società ha i governi di qualunque colore Minniti Lamorgese Salvini tant'è che si mandano addirittura in un paese non dell'Unione Europea mancano totalmente i doveri di solidarietà sociale certo grazie agli illustri datori facciamo un applauso simbolico e ringraziamo i colleghi da casa che ci hanno seguito e speriamo che sia stato un dibattito interessante con apportanti spunti di approfondimento che faremo poi in successivi conveni ce ne abbiamo un altro se non sbaglio il 15 dicembre giusto? il 15 dicembre credo ci sarà confermato il professor Palazzo sui crimini internazionali e aggiungo forse si potrebbe anche invitare il professor Massimo Donini che è l'ordinario alla sapienza di Roma di diritto penale che ha scritto un bell'articolo sull'unità che è uscito in questi giorni proprio sul problema della Russia Ucraina e Israele Palestina eccetera dove evidentemente l'unica via è quella della pace appunto ma visto da un punto di vista giuridico eccetera ecco quello potrebbe essere molto interessante assolutamente sì il mezzo migliore è la pace grazie a voi professori grazie a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti